educare al divertimento. È sicuramente questo il principio che ha ispirato il protocollo d'intesa voluto dal prefetto di potenza Michele Campanaro e sottoscritto dalle forze di polizia, dai comuni, dalle associazioni dei commercianti, dall'ufficio scolastico regionale, dall'università e dal tribunale dei minorenni. Obiettivo dell'iniziativa prevenire o arginare intemperanze nelle ore serali e notturne. Un fenomeno, quello della cosiddetta Malla Movida, che interessa in particolare i grandi centri, ma non solo. Sul tavolo ha spiegato il prefetto Campanaro, nel corso di un incontro con i giornalisti, una serie di proposte che consentano di uscire da un approccio di solo contrasto al fenomeno. Pensiamo alla prevenzione, ha detto, coinvolgendo tutti gli attori che possono avere un ruolo diverso attraverso una serie di azioni condivise. Tutti possono mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, anche del privato, per orientare a un divertimento sano le fasce giovanili. Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha evidenziato come nel periodo di Natale solo due sanzioni hanno riguardato la Malla Movida in città. Abbiamo già fatto incontri con i privati, ha detto, per immaginare condotte virtuose. Per Potenza il fenomeno è marginale, ma non è possibile abbassare la guardia. Nel settimo anniversario della scomparsa di